Il Presidente Gozzi sembra che dopo questo declino che probabilmente durerà ancora fino alla fine dell'anno, il 2020 si prospetta un po' migliore, è d'accordo? Qualche segnale di ripresa c'è, in primis il prezzo del Rotame perché la caduta del prezzo del Rotame si è fermata, anzi i prezzi stanno aumentando e normalmente l'indicatore del Rotame è un buon indicatore di congiuntura e di ciclo. Io credo che bisogna fare affidamento su una congiuntura mondiale che è segnata solo da incertezze politiche, non da fondamentali macroeconomici, le incognite sono soprattutto di politica, Brexit, l'accordo USA-Cina, ma io credo che si possa guardare al futuro con un ragionevole ottimismo. Sul fronte import abbiamo visto nei piani dei cali di produzione e dei tagli di produzione importanti, ritiene che si possano vedere anche nei lunghi? La crisi dei piani europei è una crisi turca, nel senso che anche qua il fatto che i turchi abbiano avuto dazzi del 50% invece che del 25% negli Stati Uniti ha fatto sì che tutta la produzione turca che prendeva l'Atlantico si sia riversata in Mediterraneo, in particolare nel Mediterraneo del Sud. Il comparto dei lunghi è andato meglio, il comparto dei lunghi paradossalmente, dico paradossalmente perché una buona parte del comparto dei lunghi è legato all'edilizia di un settore che è fermo da tanti anni e ciò non di meno sia travi che tondo da cemento armato hanno marcato una buona tenuta. Voi come Duferco avete annunciato degli importanti investimenti, uno in particolare a Sanzeno, lo stato di avanzamento? L'acciaieria è diventata in questi anni, grazie anche ai molti investimenti che abbiamo fatto perché ci sono più di 35 milioni di investimenti in acciaieria, è diventata una delle più performanti e efficienti d'Italia, sfioriamo il milione di tonnellate prodotte, ormai viaggiamo sistematicamente sopra le 30 colate al giorno. Questo ha giustificato la volontà di verticalizzare e abbiamo approvato nel board di maggio il nuovo investimento, si tratta di un investimento di oltre 180 milioni di euro per la realizzazione di un treno a travi che sarà il più efficiente d'Europa e sarà interamente alimentato da energie verde. Abbiamo già stipulato un PPA che consentirà al laminatoio di consumare solo energia verde, una gamma molto ampia, una gamma che arriverà dal 120-140 fino alle travi da 700 mm, quindi siamo molto concentrati e molto eccitati. Siamo nella fase autorizzativa che come sempre è una fase impegnativa che però contiamo di superare rapidamente, io penso che se tutto va bene dovremo passare l'ordine nei primi mesi dell'anno, in primavera e per partire già nel primo semestre del 2020. Questo investimento importante testimonia comunque la forza della vostra joint venture con Nucor? Beh sì, senza Nucor noi non saremmo stati capaci di fare questo investimento anche perché vogliamo fare un investimento con molta equity per lasciare leggera di debiti l'azienda, che ci sembra una decisione saggia. E quindi la partnership con loro è stata fondamentale e sarà fondamentale essere soci della più grande siderurgia americana e convincere in un periodo di America First a fare un investimento così significativo in Italia è certamente un fatto importante che secondo me la nostra politica non ha ancora colto, nel senso che si tratta del più grande investimento americano in Italia da decenni e la nostra joint venture è sicuramente la joint venture più importante, la partnership più importante italo-americana che si è realizzata negli ultimi anni. I rapporti con i nostri soci sono ottimi, noi partecipiamo spesso a riunioni negli Stati Uniti, loro vengono spesso qua, c'è un clima che è quello favorevole al realizzare di grandi cose. I rapporti con i nostri soci.